E stamattina in escursione sono stato. Com'è stata l'escursione? Bella, bella, il posto è bello, valeva la pena. Poi ho fatto una cosa stamattina che non ho mai fatto in vita mia. Cioè? Ho aiutato una vecchietta ad attraversare la strada. Oh, che carino. E mi ha detto una frase che mi rimarrà sempre dentro, sì. Cioè? Che ti ha detto? Ma io non dovevo attraversare. Allora l'ho portato indietro, perché dovevo portare la sveglia. Vabbè, ciao. Ciao. Boba.